Ciao raga! Mamma mia, ciao! Ciao a tutti! Mamma mia! Carissimo! Ciao! Finalmente ci conosciamo! Giovanni, ciao! Piacere, Lorenzo! Grande! Raga, un attimo, è davvero troppo difficile essere qui! Allora, benvenuto a questa è la casa, gli amici! Mi fate fare un giro della casa! Ciao Isabel! Ciao! Come stai? Bene! Bene adesso! Guarda quell'altro! Si è già preso, si è messo comodo il ragazzo, eh! Eh, non l'avevo ancora visto, non l'avevo ancora visto... Vai, vai, guardati, sei stato, sei stato grande! Ma non è vero, no! Mamma mia, va a cielo, ma che... Vado via una settimana a fare il macello! Eh! In riga!